Ecco quanto guadagna un arbitro in Serie A rispetto agli altri campionati europei, vediamolo insieme. Devo dire la verità, non se la passano affatto male. Si parla di uno stipendio medio a partita di circa 3.400 euro, che diventano poco meno della metà per gli arbitri al VAR, con uno stipendio medio di circa 5.000 euro mensili. Beh, tutta un'altra storia per un arbitro in dica. 12.500 euro al mese e 4.200 euro a partita. Sono gli arbitri che guadagnano di più in assoluto. In Premier invece gli arbitri sono quelli che guadagnano meno. Con circa 1.300 euro a partita. Addirittura meno della Ligan, che è sicuramente un campionato meno importante e meno difficile da arbitrare rispetto alla Premier. Se la cavano molto bene anche gli arbitri in Bundesliga, che dopo il campionato spagnolo sono quelli che guadagnano di più a partita. Circa 3.600 euro.